Oggi si affrontano Italia e Olanda. Un saluto a tutti da parte di Piero Gipardo e Luca Marcheggiani. Ora, silenzio, contiamoci, piedi nazionali. Piero Gipardo e Luca Marcheggiani Ecco com'è, si schiereranno i 22 in campo oggi. Piero Gipardo e Luca Marcheggiani Ecco com'è! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Vanderveer, Schneider, Spuntelar ha un'occasione. Molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità, era difficile battere il portiere da quella distanza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pirlo cerca la profondità. Buonucci recupera benissimo qui. Blind. Prova a passare la difesa col pallone profondo. La battuta in mezzo. Tocco preciso. Grazie a tutti. Ballotelli ha effettuato un ottimo intervento in copertura. Schneider. Prova ad andare profondo. De Rossi. C'è Giuseppe Rossi. Blind. De Jong. Schneider. Cerca la profondità. Posizioni interessate. Cerca la profondità. Ha servito male il compagno. Vanderveer. Charles. Siem de Jong. Abate. Passaggio intercettato. Blar. Blar. Qui non prende il pallone. Ovviamente fallo. Grande recupero del pallone. De Jong. Riceve il passaggio. E l'arbitro assegna un buon calcio di punizione. C'è un'altra occasione da fermi. Varie possibilità. Vediamo cosa sceglie. Non mancano le opzioni. Siem de Jong. Ancora fuori dall'area. Vediamo a chi la passa. Palla a Schneider. Siem de Jong. Parte il cross. Allontana. Si stanno muovendo molto bene. La difesa è alta e compatta. Chiellini. Fino ad avanzare ma c'è poco movimento dei compagni. Marchisio. Cerca un compagno libero. Possesso di palla però. Solitario. Colpisce il pallone. Tiro davvero da dimenticare. Tiro molto potente ma impreciso. Robben. Vanderville. Charles. Blind. Vuole il tocco profondo. Cerca il secondo palo. Cross allontanato. Niente di fatto. Fallo e calcio di punizione. Posizione invitante anche per una conclusione diretta. Traiettoria molto velenosa. Pallone. Chiellini. C'è il lungo pallone in avanti. Pallone comodo per il portiere. Snyder. Blind. Lancia il pallone in avanti. Robben. Spazza via. Vai a Nuttelar. Non trova la porta davvero per pochi centimetri. Viva. 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 che è lontana sono parecchi uomini in area però se ce l'ho sicuramente seguito male Lar Balotelli Charles De Jong Sien De Jong provano a saltare il centrocanto qui non prende il pallone e ovviamente fa Marchisio Abate Passaggio che non va a buon fine Van Der Veel Charles Stiamo entrando nel tempo di recupero Robben Van Der Veel E arriva dunque il fischio finale di questa prima frazione 0-0 alla fine del primo tempo tutto ancora in bilico ecco il fischio dell'arbitro inizia il secondo tempo Van Der Veel continua ad avvicinarsi all'area avversaria può corsare in area la ciocca larga verso il fondo si di poco ma era oltre l'ultimo difensore non dimenticare don't forget to subscribe to jmcct e video for video please comment and share thank you Valotelli Pirlo Qui potrebbe anche provare Palla ammarchissimo Molto olivo Avanza, vai da solo Poco preciso Hanno sfiorato il gol Pirlo, specialista sui calci d'acqua L'attenzione Riceve il passaggio Valotelli Non corre rischi, allontana il pallone Riceve un pallone interessante Trova bene il compagno Pirlo Da lì può crozzare La trappola è fuori di un'altra La trappola è fuori di un'altra La trappola è fuori di un'altra Questa volta è stato colto in fuori di gioco Ma avrà sicuramente altre occasioni Conoscendolo penso che continuerà a giocare così A ballare sul filo del fuori di gioco Finché non riuscirà a piazzare la zampata all'incente Malotelli Malotelli Recupera un pallone interessante Ci è andato molto vicino Ma non ha trovato la porta Ci è andato molto, molto vicino Un tiro ottimo Ci è andato! Ci è andato! Ci è andato! Ci è andato! Snyder Posizione interessante Il passaggio filtrante largo Va a Januntelarro Tiro davvero molto debole Snyder Robben Trova bene il compagno Balotelli Bisogno di una mano dai compagni Abate Cerca il suggerimento profondo Portiere fa su il pallone Snyder Balotelli Se lo beve Prova il filtrante Recupera il pallone con facilità Olanda Torna in possesso del pallone È dunque rimessa laterale Montolivo C'è Giuseppe Rossi Balotelli Tiro davvero troppo debole Robben Tocco preciso Cuore di poco Sfortunati qui Robben Si riparte con un fallo laterale Eccolo qui È arrivato il momento della sostituzione Sostituzione comprensibile Sembrava molto stanco Meglio far entrare un giocatore fresco Sbaglia l'appoggio alla compagna Olanda Con la nuova possibilità Van der Veen Charles Siamo nei minuti finali Del tempo di recupero Allora metterla in avanti Calcio di punizione Posizione interessante Manca poco al termine C'è ancora una possibilità Con questa punizione Oh vai Cross L'arbitro dice che può bastare Ottima prestazione Da parte delle due difese È finita 0-0 Poche opportunità Per gli attaccanti Partite così Vorresti che non finissero mai È stato davvero Un bello spettacolo Con i giocatori Che hanno dato il massimo Dal primo All'ultimo minuto All'ultimo minuto All'ultimo minuto All'ultimo minuto All'ultimo minuto All'ultimo minuto The zarelli Grazie a tutti. Don't shoot me in that shit. Oh shit, no shit, las petunis. Nice car, nice car. Thank you very much. Fuck lady, nice car, nice car, I love it. Thank you. How much cost? Thank you very much. How much? How much? Your life. So is there another mission after that or what? Oh, calm down a little bit, old man. I have to remove my nose, let me put your nose in the throat. Peace.